Una richiesta urgente per incontrare l'amministrazione comunale e tutti gli enti che hanno competenza in materia di disabilità, a iniziare da ASP. La consulta delle associazioni che si occupano di tutelare i diversamente abili è scritto a Palazzo di Città, ma non solo. I membri della consulta chiedono una verifica anzitutto sull'avvio di diversi servizi, a partire dagli Asacom nelle scuole. Il servizio Asacom, noi abbiamo chiesto un incontro al comune perché l'Asacom che riguarda la scuola materna è di competenza del comune, mentre l'Asacom che riguarda le scuole superiore sono di competenza della provincia. Mentre l'Asacom di competenza della provincia è partita, quella al comune stende a partire. Vuoi per una cosa, vuoi per un'altra ancora non l'hanno fatta partire. La consulta interviene anche sulle gravi carenze che riguardano la psichiatria e la mancata attivazione del centro di urno per l'autismo e dei centri di urni socioassistenziali. Come spiega il vicepresidente Razio Giudice, la perdurante emergenza del covid ha accentuato ancora di più le necessità delle famiglie alle quali è totalmente demandata l'assistenza dei propri familiari con disabilità. Abbiamo chiesto un incontro sia all'Asp che al comune perché questa pandemia sta colpendo le famiglie principalmente che si fanno carico e sono lasciate da sole dei problemi che ci sono a casa. Se tu prendi i problemi dei bambini che hanno problemi mentali come si è già denotato, se tu prendi per esempio i problemi con problemi di autismo, mancano i centri, mancano dove portarli, le famiglie sono al collasso e la pandemia sta lasciando segni indelebili e che non sarà facilmente recuperabile la situazione se non facciamo subito qualcosa. Come hanno vissuto, da quello che risulta anche voi come consulta, i disabili questi mesi di pandemia? Ma guarda, la vivono come tutti, essere costretti a stare a casa, essere costretti a non poter uscire di casa e non vivendo il contatto con le persone, questo non è il disabile in sé per sé, questa pandemia sta colpendo tutti, a maggior ragione il disabile. Se tu prendi per esempio una delle disabilità che è la disabilità visiva, levando il contatto tu gli hai levato tutto, lo lasci in baglia di sé stesso. Si configura quindi una situazione di estremo bisogno, soprattutto in assenza di servizi che la consulta chiede ormai da anni. È urgente perché qualcuno si deve prendere la responsabilità di dare sostegno alle famiglie che sono arrivate al collasso e abbiamo fatto una richiesta anche su una piattaforma telematica in modo che possiamo rispettare le regole vigenti di distanziamento e iniziare a dare manforte alle famiglie perché sono veramente arrivate al collasso, prima che succeda qualcosa di irreparabile.